Le mani battiamo, insieme danziamo, cantiamo per la felicità, cantiamo con gioia al nostro Dio, ridiamo con forza al nostro re, le mani battiamo, insieme danziamo, cantiamo per la felicità, rialza chiunque è caduto, rafforza chi è debole tra noi, chi è triste ritrova in lui la gioia, su canta insieme a noi, e grida più che puoi, che Gesù Cristo è il Signore, cantiamo con gioia al nostro Dio, ridiamo con forza al nostro re, le mani battiamo, insieme danziamo, cantiamo per la felicità, eterna è la sua misericordia, fedele per sempre nel suo amore, con forza ha sconfitto il nemico, su canta insieme a noi, e grida più che puoi, che Gesù Cristo è il Signore, cantiamo con gioia al nostro Dio, gridiamo con forza al nostro re, le mani battiamo, insieme danziamo, cantiamo per la felicità, cantiamo con gioia al nostro Dio, gridiamo con forza al nostro re, le mani battiamo, insieme danziamo, cantiamo per la felicità, le mani battiamo, le mani battiamo, insieme danziamo, cantiamo per la felicità, cantiamo per la felicità, ma nonostante il freddo voi siete venuti qui ed è motivo di gioia vedere che la gente supera il freddo, supera gli affari di famiglia, supera il disagio nella strada, per cui gioiamo nel Signore, e lo diamo per questo il Signore, ma vogliamo anche pregarlo perché come voi avete superato tante tante difficoltà, anche altre, possono superare le difficoltà di accedere alla preghiera, pensando che il momento della preghiera è il momento privilegiato in cui ci presentiamo a Dio, ed è il momento più bello per formare comunione tra di noi, per cui questo momento è il momento di preghiera, il momento di comunione tra di noi, e deve essere ugualmente privilegiato, lasciando anche un poco tutto quello che abbiamo per le mani, nella misura in cui c'è possibile, ma con un certo impegno, pensando a quelle persone che fanno lunghi viaggi pur di andare alla riunione di preghiera, come è comavente il fatto che tante persone, soprattutto fuori di qua, o anche qua, nei primi tempi, si veniva da qualunque parte, anche dai paesi, per non mancare alla preghiera, qualunque tempo ci fosse, o caldo, o freddo, o neve, o pioggia, tutto questo dimostra che veramente amiamo, perché l'amore fa superare ogni cosa, ogni ostacolo, niente può impedire l'amore, e noi chiediamo al Signore che cresca l'amore, l'amore alla preghiera, e l'amore alla comunione tra di noi, e che tutti possiamo sacrificare qualche cosa, pur di ritrovarci insieme, a lodare Dio, e a fare unione tra di noi, ed è in questa preghiera, in questa unione tra di noi, che il Signore ci accoglie, e ci dà tante, tante grazie, a volte noi ci lamentiamo di non avere più tempo, per fare tante cose che prima facevamo, che non abbiamo più buona salute, e una mancanza di benedizione di Dio, non che le malattie sono una maledizione del Signore, ma tante volte noi sottruiamo a Dio, quel che è di Dio, e Dio sottrae a noi quello che è di noi, e ci vediamo sempre più limitati, più impossibilitati ad agire, non c'è più tempo che basta, non ci sono soldi che bastano, non c'è niente che basta, perché non abbiamo dato a Dio quel che è di Dio, quel poco che è di Dio, quando lo diamo a Dio, quel poco fruttifica molto per noi, si verifica così la parola della scrittura, che da uno riceverà cento parola, cerchiamo allora, non dico a voi ma a tutti, di dare qualche cosa a Dio, di dare qualche cosa al fratello, questo non è in senso materiale, perché Dio non ha bisogno delle cose nostre materiali, neanche per il fratello, ma diamo quello che più ci appartiene, un po' del nostro tempo a Dio, un po' del nostro tempo al fratello che aspetta noi nella comunità per controllarsi nella nostra presenza, e questo è il pensiero che prevale in questo momento e mentre io lodo tutti voi che avete affrontato a disagi a venire, vorrei che anche voi foste messaggeri di questo invito del Signore, perché non è un invito mio, invito del Signore a venire, a venire alla preghiera, a venire all'incontro comunitario per ritrovare qui forza, coraggio, vita, gioia, per ritrovare qui quella spinta che tante volte ci manca in tutto ciò che noi dobbiamo fare. A volte non siamo più capaci di sopportare, venendo qui noi possiamo prendere più forza nel sopportare i disagi della vita, nell'affrontare i problemi, nel risolvere le nostre situazioni. Intanto giochiamo questa sera ugualmente nel Signore, cantiamo in Lui, siamo dopo l'immacolata e tutto il pensiero nostro va al Natale. Abbiamo già la madre, adesso aspettiamo il figlio, la madre attende, anche noi con la madre attendiamo la nascita del figlio, attendiamo il Natale e vi pregherei di avere un senso più profondo del Natale, un senso più spirituale del Natale, non che noi non ce l'abbiamo, ma tante volte il pensiero di preparare il Natale materialmente ci distoglie dalla cura di prepararci noi al Natale. prepariamo la casa, prepariamo gli altri, prepariamo questo, prepariamo quello, ma non prepariamo noi al Natale, mentre il Signore vuole che prepariamo noi al Natale con Lui, in modo che il Natale che noi faremo così con tante feste esteriormente sia anche un Natale che coincide interamente con la nostra preparazione, che sia una festa completa, cioè completa nell'anima e nel corpo, nella, diciamo, nella parte esteriore e nella parte interiore di noi stessi. E cerchiamo di fare un vero Natale in famiglia, preparare i membri della famiglia a fare il Natale col Signore, a fare il Natale con tutti i membri della famiglia, in modo che ci sia quella restaurazione di pace, di serenità e di buoni rapporti, superando tutte le riflessioni difficoltà dovute a tutte le cause possibili di questo mondo, ma in cui c'è sempre lo zampino del maligno il quale impedisce la pace, disturba, mette sempre ostacoli nel mezzo perché non vuole l'unione tra di noi, vuole la distruzione dell'individuo, della famiglia, della società. Ha questo unico compito, Lui che è il distruttore e compie bene il suo dovere. Ora, se Lui compie bene il suo dovere, perché non dobbiamo compiere noi, Lui compie il suo dovere di distruggere, noi dobbiamo compiere il nostro dovere di edificare. con questo pensiero, una parola su Rimini, Rimini è andato molto bene, quest'anno eravamo 3.600 stando ai pass, però qui pendolari si arrivavano a circa 4.000. Interessante, tutta la riunione che abbiamo avuto, molto intensa, secondo i programmi stabiliti, è stata una buona occasione. Certamente il rinnovamento va maturando di più. Se leggete l'Avvenire avete dei bellissimi articoli, poi abbiamo delle belle testimonianze della CEI e di altri vescovi che apprezzano il rinnovamento. Il rinnovamento va avanti nel mondo, però deve di pari passi andare avanti nella nostra vita. Il Signore si chiama a rinnovarci interiormente, noi. Il rinnovamento è maturo, per cui tutto ciò che era, che apparteneva alla poerizia d'infanzia, sì, deve essere guardato con tanta gioia e bisogna rifarsi all'infanzia come ai giorni belli nella nostra vita, però dobbiamo adesso che siamo più maturi operare per il Signore, operare la nostra santificazione e operare così la santificazione del mondo che ci sta attorno e questo impegno che abbiamo preso a Rimini di santificarci di più e di operare di più in campo così di evangelizzazione e di missione. soprattutto dobbiamo essere esempio di vita, di vita cristiana nell'amore che dobbiamo portarci tra di noi sia puntato appunto sulla comunità e sulla comunione fare sempre comunità i gruppi stanno diventando tanti gruppi stanno diventando comunità appunto perché dove cresce l'amore dove cresce la comunione inevitabilmente il gruppo diventa comunità ora c'è questo processo che sta avendo successo in Italia che molti gruppi diventano comunità noi in Sicilia abbiamo moltissimi gruppi ma comunità non si sente più tanto il bisogno per cui il rapporto al numero nel resto dell'Italia ci sono molte comunità gruppi comunità mentre in Sicilia con 300 gruppi noi abbiamo non abbiamo comunità ed è un segno negativo questo perché la comunità è segno di comunione crescente e il futuro del rinnovamento questo l'ho letto io nel 1975 76 il futuro del rinnovamento è la comunità per cui dove crescono le comunità cresce il rinnovamento in qualità e le comunità conservano così il patrimonio del rinnovamento dello spirito perché i gruppi a lungo andare si possono sgretolare il gruppo che cresce cresce in comunione e diventa comunità proprio l'altro giorno c'era una bella comunità delle Marche 19 giovani si sono consacrate del rinnovamento giovani belli e forti sono andate proprio dal vescovo che li ha benedetti sono formate una comunità di giovani 19 giovani comunità del rinnovamento nello spirito pur facendo parte del gruppo ma tanti gruppi si orientano verso la formazione di comunità questo significa che c'è una crescita una crescita qui c'è un po' di arretramento in Sicilia nel senso che noi siamo molto lontani ci voleva mezzo milione per andare alla Rimini per cui siamo svantaggiati da questo punto di vista però il rapporto al numero noi eravamo pochi siciliani pochi isolani pochi sud mentre il nord e il centro era molto numeroso pensate a circa 4.000 animatori scelti tutti dai pastorali non che veniva tutti scelti dai pastorali noi eravamo ben rappresentati nemmeno il gruppo noce ma gli altri gruppi di Palermo è venuto qualcuno sparuto non segno buono e allora qual è la parola d'ordine di crescere crescere nella comunione fraterna crescere nella santità della vita crescere nell'impegno perché il rinnovamento è un dono dato alla Chiesa e chi viene al rinnovamento riceve un grande dono del Signore e che forse non abbiamo coscienza nel dono che abbiamo è come se avesse in mano come dei bambini che hanno in mano dei giocattoli ma quei giocattoli sono di pietre preziose e noi trattiamo questi giocattoli come se fossero di carta pesta mentre sono pietre preziose che trattiamo in mano come quei quei primi scopretori dei dei diamanti nel Trasval proprio quello che fondò la casa qualche non sei quali circa mezzo no 1910 un'unice così lo scopretore delle dei dei camini diamantiferi e ci vede le grandi miniere di diamante nel Sud Africa come li scoprì che c'erano dei bambini che giocavano con le pietruzze giocavano a diamante giocavano a diamante senza sapere che quelle quelle pietruzze che avevano raccolte nel fiume e quella pietra più grossa erano diamante giocavano a diamante quella appena vide quel viaggiatore si è accolto ma qui scopri scopri trovando poi le farte diamantifere e così avviene per noi siamo come dei bambini che giochiamo ai diamanti senza accorgersi che quelle che noi trattiamo sono pietre preziose sono diamanti risalziamo come se fossero le pietruzze e non siamo coscienti delle grandi donne di Dio chiediamo al Signore di comprendere tutto questo e di operare anche in mezzo a noi una cosa che ci raccomandiamo io negli altri è di crescere nella comunione fraterna perché tutto sta là lo Spirito Santo è comunione dove non c'è comunione e desideri di comunione non c'è Spirito Santo ci possono essere tutti i carismi ma non c'è Spirito Santo ma noi che sono quei carismi non sappiamo di dove vengono se ci sono o sono illusioni nostre la presenza dello Spirito è data non dai carismi ma dalla comunione dalla santità della vita quelli sono i segni sicuri della presenza dello Spirito chiediamo al Signore una maggiore santità personale e una maggiore comunione tra di noi c'è un'abbondanza di Spirito Santo e molto più serietà nel trattare le cose del Signore la preghiera la cosa del Signore la riunione è una cosa del Signore ad invitarci qui non siamo noi è Cristo che ci invita cioè colui che invita è Cristo e qui quando si viene si viene a trovare Cristo non si viene a trovare questo quell'altro quell'altro si viene a trovare Gesù lui che ci invita non aderire all'invito o non comportarsi bene nella riunione e non comportarsi bene con Gesù o non aderire a Gesù o venendo non comportarsi bene con Gesù che coincide con mancanza di fede o smorti diceva Paolo avete cominciato con lo spirito ed essere ferite dalla carne e questo lo diceva soprattutto che cosa sento tra di voi che sono molte divisioni c'è poca comunione di nuovo siete ripiombati nei frutti della carne invidia gelosia divisione cerchiamo di essere uniti di mettere da parte qualunque sentimento che ci possa disunire e se non troviamo in noi qualche cosa che ci unisca troviamo nemmeno Cristo che ci unisce mediante il suo santo spirito e con questo ci alziamo ci mettiamo così in preghiera e cantiamo al Signore il Signore vuole che noi siamo il popolo della lode quantomeno lodiamo il Signore veniamo qui a fare quattro salte per il Signore canto numero 259 acclamate al Signore voi tutti della terra sentite il Signore nella gioia presentatemi a lui con esultanza acclamate 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 al Signore riconoscete che il Signore è Dio egli ci ha fatti e noi siamo suoi suo popolo e cresce del suo pascolo acclamate al Signore voi tutti della terra servite al Signore nella gioia presentatevi a lui con esultanza acclamate 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 al Signore con il Signore con il Signore con canti di lode lodatelo benedite il suo nome acclamate 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 voi tutti della terra servite al Signore nella gioia presentatemi a lui con esultanza acclamate 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 il Signore il Signore con il Signore acclamate a lui con esultanza acclamate 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 al Signore acclamate al Signore Acclamate al Signore. Spirito Santo, visita i cuori con una fortezza e verità. D'una sapienza e santità, noi ti invochiamo in il Signore. Spirito Santo, visita i cuori ai tuoi fedeli che credono in te. Manda i tuoi doni consacrari a te. Noi ti invochiamo, noi ti invochiamo, noi ti invochiamo in il Signore. Spirito Santo, visita i cuori ai tuoi fedeli che credono in te. Cantiamo tutti. 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 Amarci. Cantiamo tutti. 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 Cantiamo. importanti. Cantiamo. Cantiamo tutti. Cantiamo tutti. Cantiamo. Cantiamo tutti. Cantiamo tutti. Cantiamo. Cantiamo. Cantiamo tutti. Cantiamo. 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 . che Gesù ti piace, sorrì che Gesù ti dà la vita, sorriele a Gesù di Nazareth, canta, canta per lui, perché Gesù ti liberò, canta, canta per lui, perché Gesù te ridemò, sorridi che Gesù ti ama, sorridi che Gesù ti vuole, sorridi che Gesù ti dà la vita, sorridi a Gesù di Nazareth, sorridi che Gesù ti ama, sorridi che Gesù ti vuole, sorridi che Gesù ti dà la vita, sorridi a Gesù di Nazareth, canta, canta con amore, perché Gesù ti liberò, canta, canta con amore, perché Gesù è il Signor, canta, canta con amore, perché Gesù ti liberò, canta, canta con amore, perché Gesù è il Signor.